buongiorno a tutti eccoci qui dalla sede di arforex io sono arduino schenato e rappresento appunto di arforex da molti anni questo video è un video un po particolare si parlerà di accantonare diciamo soldi accantonare capitale per ottenere un po alla volta un patrimonio allora io in questo in questo video quindi non parlerò del classico esempio di trading del del grafico x piuttosto che della strategia o del modo anche mentale dell'approccio mentale corretto del money management tutti questi queste cose che sono sicuramente importanti ma parlare di un'altra cosa che mi arriva da un libro che sto rileggendo sto rileggendo e anzi questa cosa io ve la consiglio perché rileggere come rivedere i corsi reiterare è molto importante per capire sempre di più più si ripete una certa cosa più si diventa consapevole di quello che si fa è un po come quando si pratica una certa cosa diciamo nel trading ovviamente più lo fai e più in un certo modo metodo perfetto ci sta ma il fare il cercare di rifare costantemente l'analisi nel stesso modo riguarda i grafici eccetera permette di capire meglio di fare meglio quello che si va a fare appunto anche l'esempio facciamo spesso del del guidare no guidare la macchina diventa automatico perché perché si fa sempre quindi non abbiamo più il bisogno di sapere dove va il piede la frizione la marcia poi ormai ci sono cambi automatico eccetera però detto questo io rileggo io rifaccio rivedo i corsi anche i miei cerco di studiare durante il giorno una buona parte visto che io comunque la mia attività è il trader principalmente e tutta la parte formativa didattica operativa legata a forex eh ho del tempo che dedico durante il giorno per lo studio per l'evoluzione per cerchiammi capire una delle dei modi che ho è leggere ovviamente leggo libri quindi in questo momento sto rileggendo per la seconda volta in realtà un libro che comprai probabilmente questo non so neanche a noi ma penso di averlo preso nel 2010 2011 eh questo è un libro non non so di che periodo sia ma io penso di averlo preso proprio in quel periodo lì che vi ho appena detto non so se ci sia una data di uscita 2009 è uscito ecco io penso di averlo preso probabilmente forse in quel periodo l'anno dopo insomma l'ho preso in quel periodo là è un libro un po' adesso è un po' infatti un po' invecchiato ma è questo eh 50 classici della ricchezza eh molto molto interessante è un libro credo che avevo già letto e ero arrivato al secondo terzo capitolo e ho riletto questo capitolo tre volte hm negli ultimi giorni è un capitolo dedicato all'imprenditore eh nonché mh famoso eh diciamo eh imprenditore famoso eh formatore eh nel settore della finanza personale americano che si chiama David Buck David Buck eccolo qua eh il capitolo è il nome di un suo libro il milionario il milionario automatico The Ormeric Millionaire ok questo è un po' la cosa allora in questo ho capito lino di qualche pagina eh devo dire che ci sono riversati parecchie cose interessanti eh veramente eh molto interessante se l'ho riuscito a trovare ancora sto libro ma comunque troverete sicuramente anche perché Buck tra l'altro fa anche dei podcast io comunque sì ho già letto anche altre cose no ehm ci sono altri libri importanti in inglese forse tradutti anche in italiano però leggere anche in inglese no abbiamo fatto svariati libri che ho qua sopra Market Wizards vi ricordate dedicati proprio invece alle strategie di trading all'approccio no del trader di un certo tipo eh gestori di fondi trader privati importanti o meno conosciuti o meno eh che avevo spesso tradotto proprio dall'inglese però anche perché così imparate no una lingua vi tenete in ma detto questo ehm questo libro mi piace molto è un bellissimo libro e ci sono tutti questi esempi probabilmente ne farò ancora di video riguardanti ciò che mi ha eh insegnato qualche qualcosa di questi capitoli in questo caso questo personaggio David Buck perché dico questo perché eh siccome mi trovo spesso a eh ad avere clienti che sono corsisti mi piace chiamarli clienti corsisti gente insomma che vuole imparare a eh fare trading e ovviamente lo fa non perché vuole così far trading e basta perché magari gli piacciono i mercati per carità ovviamente questa cosa ci deve essere eh lo diciamo sempre la passione eh però lo si fa perché 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 l'intento è quello di guadagnare quindi si cercano delle eh attività che possano piacere e possono far guadagnare ovviamente la borsa in generale eh mercati finanziari sono una di queste però sappiamo quanto può essere difficile eccetera eh quindi cosa voglio dire ecco mi trovo spesso magari con persone di dai venti ai cinquanta sessant'anni ma io qui prenderei più la soglia dai venti ai cinquanta eh che mi dicono ah io a me piace il trading magari hanno anche un po' studiato eccetera però ho pochi soldi da investire quindi magari fanno fatica magari anche aprire un conto con con pochi soldi e magari si si fanno un po' accecare anche no da questi guadagni facili oppure eh questo mi potrebbe dare dei soldi oppure mi dice che se faccio un certo tipo di cosa eh potrei faccio un certo tipo di eh come dire di equity eh potrei entrare in questa società dove gestiscono tanti soldi tutte queste cose qua comunque al di là di quello poi sono anche obiettivi diversi di vita io voglio fare per esempio il trader privato ma mi trovo con pochi soldi ecco c'è tutta una questione su questo cioè il fatto di dire mh magari anche imprenditori che nella loro vita hanno comunque guadagnato un sacco di soldi hanno fatto eh tanto e hanno guadagnato ma il regime di vita il lo stile di vita il continuare a spendere gli apportati che è vero che guadagnavano di più ma non per questo poi avevano di più e proprio questo è un po' l'oggetto cioè il trovarsi praticamente a eh continuare a girare il denaro spesso indebitati carte di credito mutui leasing tutte queste cose che poi non fanno altro che andare a peggiorare una determinata situazione quindi diciamo che poi questo potrebbe essere un altro video riguardante il debito quello che penso io sul debito poi può essere condivisibile o meno ma per me è stato comunque vincente non riconoscere nel debito in generale la fonte per poi eh no reinvestire quindi perché poi ognuno ha la sua visione per me non è così insomma tutta una serie di un cane che si morde la coda e ci si trova a magari poter essere anche persone che potrebbero investire qualcosa in ottica di trading o in ottica di investing ma comunque eh qui stiamo parlando dopo il fatto di riuscire ad accantonare ad avere del patrimonio per poi capire il da farso con questo patrimonio il problema è che non c'è questa mentalità e eh in questo in questo libro mh Bach racconta di un episodio eh appunto probabilmente ne parla nel libro ehm appunto eh The Oromeric Millionaire ne parla in questo libro dove praticamente eh dice che eh c'è questa consulenza che lui fece a ancora quando faceva tipo il consulente mh a queste a questa coppia adesso i particolari non li ricordo esattamente ma insomma fece questa consulenza e eh questa coppia che ormai insomma era tipo età alla pensione aveva sessant'anni così eh aveva praticamente eh un sacco di cose nel senso che eh aveva soldi in banca più aveva due case di proprietà più aveva una barca e più aveva qualche automobile a parte il fatto che io non sono ecco anche qui non voglio fare l'esempio di quanto è però avevano tutte queste cose in più avevano soldi e quando Bach gli chiese insomma questi erano due eh impiegati due dipendenti eh con stipendi medi che però da quando avevano praticamente vent'anni avevano preso il consiglio dei genitori avevano sempre eh ogni mese che ricevevano il loro stipendio un po' uno un po' l'altro però ogni mese andavano a eh come dire eh prendere obbligatoriamente una parte di quello stipendio e lo eh andavano a accantonare e si sono ritrovati e raccontava Bach due persone normalissime non facevano non erano imprenditori o magari potevano avere dei momenti in cui i soldi potevano essere generati in modo più potente no? E quindi non hanno non avevano guadagnato di più di altri nella loro vita ma avevano gestito pianificato le loro entrate in maniera diversa appunto accantonando mensilmente accantonando e proprio qui è il eh il come dire il dove va a portarsi Bach quando parla di questo e il suo diciamo mantra di questo capitolo dice in inglese ve lo dico poi ve lo dico in italiano pay yourself first paga prima te stesso no in italiano e se ci pensiamo bene se noi facciamo i dipendenti di un'azienda abbiamo la busta paga e nella busta paga viene già eh come dire trattenuto il l'importo del capitale che va a eh pagare le tasse allo stato e i contributi quindi praticamente lo stato sapendo come l'uomo tende a gestirsi i propri soldi che nel 90% dei casi non ha gestione se no si troverebbe come spesso succede a molti invece imprenditori che lo pare le tasse le pagano l'anno dopo e si trovano che non hanno più i soldi per le tasse lasciamo stare che sono alte ok ma non ci sono più soldi per le tasse proprio perché si spende tutto non si ha nessuna gestione del denaro mentre lo stato ha capito che non può farlo con tutti coi dipendenti gli va a applicare già la tassazione a busta paga già obbligatoriamente versata con i contributi quindi perché noi non andiamo a ragionare nello stesso modo anche questo fa l'esempio sempre eh dello stato per esempio quindi la prima cosa da fare è pay yourself first se noi siamo imprenditori pay yourself first se noi siamo dipendenti l'uguale come facciamo nel momento in cui noi abbiamo riceviamo un bonifico che è diciamo la paga del nostro lavoro mensile quindi ovviamente siamo imprenditori e fatturiamo giornalmente non è che ogni giorno lo facciamo poi ha dei costi il bonifico no ma mensilmente riceviamo mille dovremmo imparare subito a prendere questi mille ritirare questi mille almeno un 10 per cento di questi mille da un 10 a un 20 per cento ovviamente più si riesce a guadagnare più si riesce a gestire questa percentuale almeno un 10 per un per uno stipendio piccolo e questo 10 per cento va subito bonificato a un conto che non è nella stessa banca e soprattutto dove non si ha accesso con carte di debito con carte di credito e cose di questo tipo è un conto completamente per risparmiare al massimo poi magari vi spiego rapidamente per investire qualcosa a lungo termine anche devi rimanere lì quindi noi dobbiamo pagare prima noi stessi prima di tutto prima delle bollette prima del pagamento delle tasse prima di pagare i dipendenti collaboratori siamo imprenditori qualsiasi cosa prima quel 10 per cento va a noi prima di tutto va a noi questo cosa genera intanto genera quello che vi volevo dire cioè il fatto che piano piano vi accorgerete come facendo questo pam ogni mese vi troverete dopo sei mesi un anno due anni tre anni quattro anni ve lo dico perché io lo faccio quindi oltre al fatto che ho letto questo ma lo faccio pure io vi troverete che inizierete a vedere anno dopo anno mettendo via pochissimo dei numeri ok senza accorgervene e in più l'altra cosa che vi porta è che se voi pagate voi prima avete un po' meno provate a pensare se mettono una tassa del 10 per cento su tutto quello che guadagnate subito voi comunque la dovreste pagare invece di pagare voi andreste a pagare qualcun altro lo stato in questo caso e la paghereste in questo caso fate la stessa cosa quindi quel 90 per cento che vi serve dovrete riuscire a gestire tutte le vostre cose quindi questo vi darà anche un boost per cercare di magari se siete un imprenditore fatturare di più trovare nuovi clienti insomma nuove modalità per migliorarsi quindi aumentare proprio fatturato ma sempre con il pay yourself first se siete dipendenti uguali cercherete di trovare il modo per magari evitare a volte spese inutili per esempio non so andare tre volte in meno al bar o una volta in meno a versi la cosa la birra eccetera eccetera questo quindi questo anche per gli imprenditori cioè per chi ha un'azienda liberi professionisti eccetera quindi se vogliamo investire nel trading non è vero che non abbiamo i soldi è che non abbiamo mai risparmiato qualcosa per investire poi questi soldi perché dopo io di questi soldi nel tempo perché poi dopo nel trading c'è tutto il fattore che bisogna anche studiare bisogna capire cioè non è che imparo subito i mercati così quindi possiamo dargli anche quel tempo e nel tempo si può decidere c'è il video passato che vi ho portato qui sul canale che parla proprio simile a questo però portati nel tema più trading con gli obiettivi eccetera ma anche questa è una cosa molto importante che io vedo che non c'è proprio risparmio questo poi vi permette di essere anche più tranquilli perché se siete degli imprenditori poi comunque non so dopo dieci anni sapete che avete un vostro cuscinetto è un po' un paracadute anche avete la vostra diciamo chiamiamola così pensione avete il vostro appunto cuscinetto la vostra vostro paracadute la vostra tutela che vi permette poi di di essere tranquilli e non per niente c'è un sacco di percentuali di anche di imprenditori di persone che poi arrivano hanno un problema e non sono capaci di far fronte a questo problema perché non hanno mai risparmiato nulla e ripeto non è vero che se prendi mille euro al mese non ce la fai probabilmente sei troppo indebitato prima allora a quel punto dovrai cercare di capire come gestire questo debito facendo sempre la stessa cosa di prima magari all'inizio invece di mettere un dieci per cento metti un cinque però inizi intanto accantonare 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 spesso ci si accorge che se andiamo a fare magari a fare qualche avere qualche sfizio in meno no a farsi che poi a volte serve anche a poco otterremo questi risultati quindi non è una questione di quanto noi fatturiamo oppure eh ma io ho fatto un sacco di milioni no con la mia azienda eccetera non un soldo perché non hai mai fatto questo questo è un qualcosa ti assicuro come così eh consiglio di risparmio molto semplice però che ho riletto qui che io faccio da tempo e devo dire che io per esempio c'ho appunto anche eh mi sono creato un un fondo proprio mio eh dove ogni anno metto qualcosa oltre che un altro conto dove metto un'altra cosa e questi fondi ce n'è uno dove lo tengo esattamente di liquidità quindi praticamente non viene quasi investito quindi non ha praticamente non dico quasi perché ha una un leggerissimo per evitare proprio l'erosione dell'inflazione soprattutto in questo questo momento e c'è l'altro che invece va a investire eh esclusivamente su un paio due tre etf a lungo termine quindi per esempio uno su tutti l'etf lo spy no l'etf sull'S&P 500 per esempio ovviamente io adesso qui non sto dicendo di fare questo ma mi sto dicendo che poi si può anche decidere di ammettere questi soldi e ogni mese si va a investire quindi a creare questo cumulo di reddito questo patrimonio che è anche investito in mercati per esempio il mercato dell'S&P 500 che guardavo prima aspetta un attimo che vado a prenderlo guardavo prima su i vari Morningstar Morningstar Yahoo Finance eccetera lo storico performance dell'S&P 500 con tutte le performance anno dopo anno dal 1994 sto leggendo eh ad oggi è esattamente guardate qua ve lo dico del 12 del circa il 13 tra il 12 e il 13 per cento tra il 12 e il 13 per cento negli ultimi 27 anni ok dal 94 ad oggi in realtà poi ci sono anche etf per esempio ehm etf msc world che ci sono vari etf poi su questo che replicano l'andamento di eh moltissime aziende mh a livello mondiale eh anche alcuni vanno anche su alcuni mercati emergenti eccetera anche questo insieme magari ad un'S&P 500 può diventare che anche quello ha eh leggevo anche qui ha praticamente una insomma una uno storico a livello performance molto molto interessante nel senso che eh eh fa tipo il set ha fatto negli ultimi 15 anni 10 anni 15 anni non mi ricordo più adesso non non mi ricordo più il dato ehm ha fatto tipo il 7 per cento all'anno ecco questo dovete fare cioè dovete andare avete un conto un conto con la banca X che è il conto di diciamo attivo circolante no il conto dove c'è il cash flow quindi vostra azienda il vostro lavoro la vostra vita eccetera poi questo lo dovrete dovreste andare ad aprire un altro conto dove in questo conto fate il paga prima te stesso che il buon ehm il buon David eh Buck va a a parlarci di guardate proprio dice proprio questo paga prima te stesso ok paga prima te stesso eh il solo modo per diventare ricco sto leggendo un attimo con facilità è pagare prima te stesso accantonando automaticamente automaticamente deve essere obbligato non dovete pensarci ehm automaticamente ehm almeno il 10 per cento del tuo stipendio per risparmi programmi pensionistici ecco io quello che ho infatti è anche un fondo pensione quello dicevo prima o investimenti mh ok quindi eh questo è molto molto importante perché vi porta ad avere appunto eh sicuramente un altro poi stile di vita tra qualche anno avete la possibilità di andare a investire con i vostri soldi senza dovervi indebitare ulteriormente volete fare un viaggio volete fare qualsiasi cosa volete investire anche nel trading e quindi magari dedicare poi non so avete messo via per vent'anni ehm dico anche 5.000 euro l'anno ok e dopo vent'anni con l'interesse composto appunto di questi etf avete magari 150.000 euro o anche di più dipende con 5.000 euro potrebbe essere un'idea 130 120 quello che è ecco potete dire vabbè 20.000 li posso anche prendere e mettere in un conto di trading e fare un trading consapevole quindi avete tutto un altro vedete c'è c'è tutta un'altra scelta ma anche se se avete già no se avete già il fatto di avere comunque questa propensione è importante perché vi genera ancora di più e quindi potete investire per esempio nell'investing di lungo termine per esempio prima parliamo di dello spy dell'etf sull'asp500 potete investire ancora eh ancora di più oppure potete appunto dedicare una parte prenderla e mettere in un conto di trading con un broker sano ovviamente e magari avere più soldi per fare anche il trading quindi possibili guadagni maggiori eccetera con rischi minori perché poi alla fine lì l'obiettivo quindi percentuali piccoli di rischio per guadagnare comunque il giusto a livello di euro perché poi è quello avere la possibilità anche di sostenere dei c'è un guasto della macchina piuttosto che la casa o qualcosa non avete il problema che qualcuno addirittura si va a indebitare c'è la gente che si indebita per le vacanze quindi questo non deve accadere il debito è quasi sempre cattivo per me rari casi può essere un qualcosa di attivo ma non è questo il video quindi state praticamente dovete fare questo secondo me questa è una cosa che leggendo lui e in realtà è quello che io tendenzialmente faccio già da anni è una cosa che a mio avviso può portarvi poi a essere più sereni e a fare le cose che volete bene io direi che questo è tutto vediamo se mi manca qualcosa che volevo dirvi su questo direi di no quindi vedete la costruzione del patrimonio è un qualcosa di lento no roma non è stata costruita in una notte quindi non vogliamo non a volte addirittura ci sono questi che vanno a fare l'attività di network marketing perché gli fanno no il castello con questi guadagni enormi queste cose stiamo parlando di nulla cerchiamo invece di pagare prima noi stessi questo darà anche un boost a quello che noi facciamo perché cercheremo poi di con quello che ci rimane di pagare tutto quello che pagavamo prima però intanto andiamo a cantonare ok quindi se vi fate se iniziate a dire ma io prendo pochi soldi meglio questo meglio quello è su tutti i alibi e non riuscirete mai ad accontonare un patrimonio che col tempo che anche fruttato nel tempo vi possa far sentire sereni e fare anche delle cose che volete che oggi non potete fare perché non li avete questo è va bene bene allora ringraziamo appunto david buck per questo per questa idea che mi è venuto mentre leggevo detto adesso ci faccio un bel video perché è vero che tante volte parlando con voi mi capita di sentire questo non c'è magari il capitale da investire perché questo perché quello allora iniziamo oggi iniziate oggi iniziate domani quando arriverà il primo stipendio fate questa cosa e dovete farla in modo automatico obbligato diciamo come se fosse una trattenuta per una tassa nuova che è uscita e quindi quello lo farete lo fareste in questo caso uguale solo che invece di pagare lo stato chi per esso pagate voi bene grazie a tutti lasciate un mi piace ovviamente solite cose campanella non campanella l'iscrizione al canale se lo volete fare altrimenti pazienza guardate questo video se vi è piaciuto anche se non mi piace ecco commentate importante e poi condividete con la vostra community io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao